Ok, sì, proprio così, questa qui è una cosa che io non sapevo che esisteva, ma sì, siamo su Sonic 3 Jog per mobile, e non c'è solo questo, c'è anche Sonic CD e tantissimamente i Sonic che se volete la settimana prossima vi ci porto un video anche su di loro. Intanto, intanto ho fatto una piccola prova, stavo dicendo, bellissimo comunque, ci ho giocato quando ero un po' più piccolo, cioè un po' di anni fa, e niente, è un gioco normalissimo, un po' vecchiotto, però, cioè ragazzi, come possiamo non provare un Sonic per tablet, fatto bene, tablet, telefono, ora io sto provando da tablet. Iniziamo un po' con Griller, cioè io vi ci porterei anche una serie su mobile, però vabbè, ovviamente ci sono le cose per muoversi lì a fianco, e quindi c'è Gigi che sarebbe bello, ve la porto direttamente con altri metodi e non da mobile. Però, cioè, alla fine, penso sia il gioco completo. Ah, è una cosa, non vi farò per troppi tagli, perché ce ne vorrebbero ovviamente un sacco, ma questo gioco costa 2 euro, e mi capita una pubblicità ogni 3 secondi perché non l'ho pagato, cioè, nel senso, non è che l'ho scaricato illegalmente, ma... C'è la versione a pagamento e la versione non a pagamento. Ora, io ho finito già il primo atto, The Green Hills, che è il primo mondo, e vabbè, è molto facile, niente di così complesso. Stavo dicendo il gioco completo costa 2 euro, che, oddio, non so spiegare niente. Questo è il gioco completo, però, eh, per togliere le pubblicità costa 2 euro, sì. E, bene, facciamo voli tutti gli uccelli, ok, ok, tutto veloce, dai. Ce l'ho fatta fare alla prima botta quello, ma perché prima, sei, perché mi ha sciottato, o ha sciottato? Ok, dobbiamo ricominciare da capo, non riesco a capire se è da capo, ok, se è da capo. Ok, perfetto. Cioè, per farvi capire perché non commento i gameplay, ma devo iniziare a commentare di prima o poi. E intanto questa serie, non ve la forse la starete venendo dalla playlist della serie di Sonic the Hedgehog, se lo porterò mai. Però, penso che lo porterò anche tra un anno o due, ecco, qui sono rimorto lì. GG. Stavo dicendo, lo porterò forse tra un anno o due perché è un gioco troppo vecchio per il canale, no, non ci credo. È un gioco troppo vecchio per il canale, è proprio ora che, no, ecco la prima pubblicità. Proprio ora che stiamo crescendo di iscritti, di visualizzazioni, preferirei portare altra roba, quindi casomai in futuro lo troverete sul canale. Allora, ah, e spolliciate così la prossima settimana, vi porto un video di, dai, su, spoileriamo un po', forse Sonic CD probabilmente. Ok, nel dubbio proviamo ad arrivare almeno al mondo nuovo e fare l'atto 1, anche se sarà molto difficile, impossibile. No, vabbè, cioè, avete visto quando sono forte, no? Allora, però qui devo fare con calma perché cado, ecco qui, perché cado. Ok, ora ho avuto molta fortuna, però cado lì, ecco qui. Se perdo contro questo granchio non so cosa potrei fare. Sì, ma le mie vite stanno finendo. Quindi ora siamo arrivati all'atto 3, wow, bello. Però penso che, non so quando ci metterò a farlo, perché l'ultima volta non sono riuscito a battere Eggman, perché a fine di questo livello si trova Eggman. Vabbè, siamo qui con la pubblicità, vediamocela. Lecca, se volete che vi porti questo gioco, non lo farò mai, però lasciate lecca lo stesso. Oggi è il video delle scommesse. Ok, facciamo. Trovatemi un'altra persona su YouTube che dura così poco, non fraintendete, sui giochi. Cioè, trovate, me la vi sfido. In che se praticamente non mi conosce nessuno, però, vabbè, un camaleonte mi ha fatto del male, non ho capito bene. Però so soltanto che sono un pollo, ma veramente un pollo. Ok, sono riuscito a prendere la strada degli stolti. È stata quella della povera, low budget. Vado così, ecco, ovviamente non ho affatto in tempo a saltare, anche se sapevo che c'era qualcosa lì. E niente, io direi di continuare questa cosa, non ho ancora capito come si fa, infatti salta a caso. Qui, niente problemi, niente problemi, dovremmo essere praticamente arrivati. Cioè, guardate qui che proagine, ho schippato praticamente il livello. Ecco qui, gli ultimi metri. Ok, ciao Eggman! Allora, tu ora mi vuoi menare, menare, scusate il linguaggio, menare con questa palla, ok, è un po' cringe così. Ma io non sai che sono Sonic il supersonico e ti distruggerò. Già abbiamo fatto la premessa prima di iniziare la rotta, anche se stiamo combattendo da mezz'ora. Dai ragazzi, non possiamo perdere, anche se mi ha praticamente sfracellato. Ok, ok, ok. Cioè, si vede già che sono un campione. Sono veramente fortissimo. Nessuno come me, che devo fare qui, devo fare esplodere, sì. Ho belli conigli e pulcini. Conigli e pulcini. Allora, abbiamo passato l'atto 3. Quindi ora ci aspetta il nuovo mondo, che si chiamerà. Aspetta, vediamo se ce lo posso fare subito. Allora, dobbiamo startare. Allora, il nuovo mondo dopo, casomai, la pubblicità. Non so se tagliarvela, perché non vorrei fare troppi tagli. Anche se non so se mi serviranno, se proprio a mali estremi, estremi, rimedi e niente. Ok, Merbo. No, non ho letto niente, ho letto solo Zon. Non so neanche se ho detto bene la prima parola. L'orato 1, che penso che sarà l'unico che faremo oggi. Oggi, per sempre, a meno che non vi porti la serie. Ok, mi ero bloccato qui. Non potete capire le urla. 3 ore lì, che non avevo capito che dovevo andare qui sotto. Ok. Ora, sto crepando. Che ci devo fare con questa cosa? Oddio, oddio mio. Ah, ho capito, oddio! No, raga, non potete capire 3 ore. Non potete capire 3 ore. Cioè, ho capito soltanto ora. No, non ci sto credendo. Era una cavolata tale. Non vi potete immaginare. Andiamo a esplorare un po' di qui. Allora, si passa qui, si passa qui tutto. No, no.